Per chi venisse solo ora a contatto con le attività e gli argomenti di Casa Vaicunta potrebbe risultare un po' impegnativo capire come e perché si voglia dare in un percorso di educazione del cane così tanto rilievo al tema della fiducia. Il 4 giugno 2019 Casa Vaicunta compirà 10 anni di attività. Da adesso fino a quella data mi piacerebbe condividere quei passaggi che sono stati determinanti a definire la forma e il senso di quel percorso di relazione e di educazione del cane che tutti i giorni rivolgo a chi sceglie di svolgerlo insieme a me. A presto!